C'è? No? Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi. Oggi voglio registrare un video un pochino particolare, diciamo così. E' un roleplay in cui interpreto una specie di parodia comunque, il tipico youtuber che prova l'SMR per la prima volta, essendo quasi totalmente ignorante nella materia. Perché ho avuto questa illuminazione guardando l'ennesimo video a riguardo e mi sono detta ma perché non fare tipo un'imitazione, una parodia? Volevo specificare però davvero che questo non è assolutamente un video che fa riferimento a qualcuno in particolare. E' un video diciamo in cui ho collezionato un po' le reazioni più popolari, i comportamenti più popolari che ho visto in questi video. Nei video ho provato l'SMR per la prima volta e sì, volevo un po' riunirli in questo video, davvero tutto qui. Se vi ricorderò qualcuno, ok, però davvero io non mi sto riferendo a nessuno e dico nessuno. In particolare, ascoltate bene queste parole perché vi prego, non voglio sentire dire un hai preso in giro quello, hai preso in giro quell'altro. Io non sono così, il mio obiettivo non è mai stato questo, il mio obiettivo è di farvi fare insomma una risata ma anche perché no, di farvi rilassare, fare un video diverso, quello al solito. E soprattutto sarà una parodia diciamo esagerata, cioè le cose saranno rese molto di più di quello che ho visto perché è un video ironico. Quindi se magari vedo un comportamento, ho cercato di renderlo all'ennesima potenza per così, perché mi andavo. Quindi davvero è tutto estremamente ironico, vi prego. E soprattutto non riferito a nessuno in particolare. Altra cosa è Federica Feiri SMR ha fatto un video relativamente simile, due video mi sembra, in cui è da una romanaccia appunto che prova a fare SMR e non ho copiato il format da lei perché cioè proprio guardando questi video mi è venuto in mente, guardando i video di questi youtuber mi è venuto in mente di fare questo video. Però visto che è molto simile, vi avviso che ci sono anche i suoi, se vi piace questo format. Però qui non volevo che mi piovessero commenti con scritto hai copiato, hai copiato. O non voglio neanche chiedervi in a lei con scritto hai copiato lei, hai copiato lei. Nulla di tutto ciò, davvero. Quindi dopo questa lunga 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 premessa vi lascio al video, io spero davvero 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 vi piaccia. E vi mando un bacione. Scusate, scusate. Ciao, ciao, oggi voglio provare a fare il mio primo video ASMRA. ASMRA E per chi non sapesse cosa siano insomma questi tipi di video, sono video in cui si fanno tipo dei rumori e si parla a bassa voce così mi sento scema, veramente scema a farlo. Scusate, scusate, mi viene da ridere. E poi sì, a volte si mangia e tipo si fanno sentire anche i rumori dello slime e ci sono questi video qui insomma. e si può dire ASMRA o si può dire ASMRA o si può dire A-I-R-M, no, no, ASMRA, A-I-S-E. Beva lo stesso comunque, mi piace più dire ASMRA, sentite fa un bel rumore, ASMRA. e niente, ho visto che questi video vanno molto di modo ultimamente e ho visto che tutti ci stanno provando e che vanno comunque molto bene questi video. e quindi mi sono detta cosa sono l'unica e scema che non li fa e quindi ho deciso di farla anch'io. Cioè, veramente, io non li seguo questi video, li trovo abbastanza stupidi e non capisco perché una persona debba parlare a bassa voce o tipo fare suoni tipo... però sì, visto che fanno, visto che veramente questi video fanno un casino di visualizzazioni, cioè, ci devo provare, no? e quindi sì, anche mi sento un po' ridicola in questo momento, voglio provarci. e se vi piacerà questo video ovviamente mettete mi piace, commentate e ditemi se ne vorreste un altro, ovviamente solo se va bene, se no col cavolo. quindi, sì, cominciamo, cominciamo e, cioè, mi sono un po' informata, no? e tra l'altro ho detto, cavolo, l'unica cosa veramente rilassante, cioè, che trovo rilassante è il fuoco, quindi decido di mettere sullo sfondo un video con il fuoco perché ho pensato alla fine può essere più rilassante, e sì, già mi sono informata, ho guardato un po' quello che fanno e quindi oggi vi proporrò un po' di suoni che secondo me sono un po' carini, almeno, cioè, direi, non lo so, non lo so, io non lo capisco, quindi non lo so e voglio cominciare da questo olietto allora, io sto usando il microfono, ho chiuso di solito per fare i video normali e mi sono messe le cuffie per sentire questi suoni non so se mi metterò a urlare a un certo punto, perché non ce la faccio più spero di no, io lo faccio finché resisto e poi, probabilmente dopo questo video mi metterò a urlare perché, veramente, io non so come faccio la cento e quattro anni però, sì, cioè, per le visual facili si fa questo e altro, io sto e quindi ho questo olio che uso, perché vedete com'è la mia pelle luminosa a parte l'illuminante, proprio luminosa, perché uso questo olietto che mi piace tanto e, allora, proviamo questa cosa, allora la chiamano tapping mi sono informato, vedete e, tipo ciò a volte mi chiedo, cioè tipo ma fare così alla fine c'è niente, no? cioè, è anche divertente, no? però dopo ti fermi e dici ma che cavolo sto facendo? vabbè e e poi volevo farvi sentire questo rumorino che comunque è carino, no? cioè, secondo me è carino ditemi se è carino e questo olietto, ovviamente, ha del oro 24 caratti dentro, perché sono il meglio per la mia pelle le vedete? le vedete? le tipo parnicelline d'oro? ce le vedete qui? ecco queste non ho mai fatto un video più strano, penso quindi ho fatto di video strani, eh, comunque qua ti è stranissimo cioè, ma poi secondo voi dovrei stare così vicino? o tipo più lontana? cioè, io sento comunque, non capisco poi tipo anche così vabbè, basta e poi pensavo di fare un po' di rumori cioè, ma secondo voi sto parlando bene? perché cioè perché mi sono informata e ho visto un po' anche le critiche che facevano agli altri c'erano che parlavano troppo velocemente quindi io sto cercando di parlare un po' più piano, però cioè po' non li capisco io non li capisco scusate cioè, come fanno a fare così tante visualizzazioni? c'è una mania, non ho capito e ha cioè ho appunto il mio burro cacao di Dior vedete? Dior 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 il allora c'è comunque pensato sentite? lo sentite? cioè se l'avvicinano sentite cioè però voglio dire da una parte è anche strano perché alla fine io non mi sono mai accorta che questi oggetti facessero un rumore cioè alla fine farlo una volta ti senti ridicola però ci sta proprio per ascoltarle queste cose non fa nessun rumore allora poi ho visto tantissime persone pari di posi così con le mani e non ho capito perché però lo faccio perché ho visto che lo fanno un po' difficile però basta mi sono stancata e ho visto anche che in tantissimi tipo puliscono il pennello cioè puliscono il microfono con il pennello no? e quindi ci voglio provare anch'io e è tipo prendono un pennello questo è tipo preso da Wish e si sapete c'è uno di quelli questi che si fanno un po' così e è stranissimo aspettate che chiudo con gli occhi oddio è stranissimo c'è? no? no c'è oddio questo mi piace no? cioè le mani sentono cavolate no? non fredde niente però c'è figo cioè è strano e sto cercando di farlo piano perché visto che una delle critiche appunto il più pretendivano che lo facciamo un sacco veloce la fame anche a me verrebbe tipo da farlo così però cioè insomma vedete mi sono informata comunque tra l'altro cioè è un delirio perché in questo modo io sento tipo tutte le auto fuori e c'è un casino tremendo c'è assurdo io spero davvero non li sentiato perché non è che mi do di fare cioè insomma dei tagli ogni volta ogni volta che c'è un fumore assurdo cioè tutto ci do mentre l'ho fatto anche per comunque mi sembravano dei video abbastanza facili da fare cioè in cui non serve non devi sapere fare nulla no quindi certo vabbè cioè questo mi piace il pennello pennello no ragazzi mi sento troppo stupida avete sentito anche che fanno i rumori assurdi tipo questo cioè però così io ci chiamo alcune il mio gatto cioè cosa ha fatto cioè non siete i gatti no quindi che cavolo adesso adesso ovviamente c'è non esiste un ASMR senza cibo no cioè non penso e quindi ho tipo ho visto io non so come sono le patatine no però cioè io sto andando in palestra per me non ha senso e quindi ho preso e quindi ho preso un misto di frutta secca quindi non ci sono rimaste delle mandorle e delle nozzole quindi le mangerò e due o tre vi faccio sentire i rumori della bocca anche questo io non li sopporto però visto che piacciono cioè penso piacciono oggi provo ho fatto casino no cioè non mi è sembrato prendo una mandorla molto buona è bella nozzola nozzola vedete un'altra mandorla ha suonato qualcuno alla porta forse il corriere vabbè non nozzola 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 e infine volevo un po' pettinare i capelli che ho visto che anche questo va molto come rumore e quindi si un po' di nodi e basta basta e quindi io spero che questo video ASMR vi sia insomma piaciuto cioè boh io rimango un po' boh cioè tipo il suono della spazzola è l'unico che boh mi è piaciuto mi è piaciuto era strano proprio era il suono del pennello c'è che poi ho visto vanno anche tipo così no tipo così e però boh cioè perché devi fare così tipo vanno tipo così e cioè fanno così e tipo fanno anche il rumore del gattino vabbè non ha senso cioè così tipo cioè non ha senso con il rumore del gattino quindi quindi non ha senso una fotocamera quindi niente io cioè io spero non vi siete iscriviti dopo questo video cioè spero che faccia molte visualizzazioni e niente e guardate il mio video precedente in cui faccio scegliere il cosa mangio al mcdonald quello prima di me e io vi mando un bacione e tipo questi video tipo penso servono per dormire e quindi ho sentito molte persone che finono con buonanotte e quindi ve lo dico anch'io cioè buonanotte e quindi qui